1. Sissi Matli, Ale, Gocciadoro, 2. Rockard, Massimo Castado, 3. Luis Ifer, Ale, Raspante, 4. Rivelino, Andrea Farolfi, 5. Rambo di Cesato, Vincenzo D'Alessandro, 6. Sherwood B, Maurizio Cani, in seconda fila, 7. Sherk Attack, Giampaolo Minucci, 8. Regensburg, Joss Werbeck, 9. Stiaccino Jet, Lorenzo Valdi, 10. Regina Cosmo, Romain, Derrille. Macchina che prende velocità va per lasciare i concorrenti partiti in questo istante. Si ritrae Sherwood B, l'errore di Regina Cosmos. Dal centro del cuneo, Rivelino, in breve, scende alla corda, avanti a Rocard, per linee esterne, Rambo di Cesato. Ha squalificato. Rivelino che fatica a sopravanzare, Rocard che vorrebbe mandare alla fine in 170 metri. E battistrada, 14.6, il lancio rimane in fuori scoperto. Rambo di Cesato che non va a lungo, terzo in corda. E Sissi Matli, il gioco delle pariglie con la squalifica che ha colto Regina Cosmos. Ha preso la via in largo anche nelle retrovie Stiaccino Jet, 400 in evidente decelerazione, a parte di Rivelino in 29.6, tanto che Sherwood B si allarga in terza corsia, gira Rambo di Cesato ai 600 in 46 e cerca di pervenire verso la testa della corsa. Davanti alle tribune Rivelino che ha potuto fare tutto per gradi, avanti a Rocard. Per linee esterne scoperto, ora c'è Sherwood B, le cui mosse sono seguite da Rambo di Cesato. Per linee larghe anche Stiaccino Jet e Shark Attack, 1 minuto e 8 decimi, gli 800 metri iniziali. Si va a attaccare la parte terminale del percorso e Rivelino prende in breve un paio di lunghezze in margine a 600 metri dal termine. Mette lì un 15.3, torna a spostare Stiaccino Jet che dà il parziale sulla dritta opposta, avvicina Rivelino. A 500 metri dalla conclusione Stiaccino che è al lato di Rivelino. Quando si va all'imbocco della piegata conclusiva, la dritta opposta in 14.3, 1.34, 1.2 con Stiaccino Jet che impegna Rivelino. I due sono in larghissimo vantaggio, Rivelino che rimane lì caparbiamente a lottare con Stiaccino Jet all'esterno. I due nettamente avanti al resto della compagnia. Di dentro l'errore di Rivelino che spiana la strada a Stiaccino Jet più indietro. Shark Attack nel tratto conclusivo, Stiaccino Jet che viene a vincere netto al secondo Regensburg che piega nel tratto conclusivo. Shark Attack al quarto termina Rambo di Cesato. Due minuti, un filo imbondanti anche in questa seconda prova del Superfrustino. 1.15.3, la media al chilometro, successo di Stiaccino Jet. Lorenzo Baldi per i colori della signora Anna Fiorina Fiorentino. Tratto conclusivo, l'errore di Rivelino venendo verso l'ingresso della dritta arrivo. Il numero 9 sul tabellone alla primo posto, Lorenzo Baldi che centra il successo. Chiaramente arrivati a quel punto al secondo Regensburg al terzo Shark Attack. 9.8.7, l'arrivo della terza. Grazie a tutti. Grazie a tutti.